ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con le interviste di bio blu 24 allora oggi parliamo di storia ma proviamo a farlo da un altro tipo di angolazione cioè proviamo a scardinare anche quelli che sono alcuni dogmi alcune verità che sono ritenuti inconfutabili ma che invece come andremo a vedere nel corso dell'intervista di oggi e come abbiamo fatto già in passato su bio blu in realtà c'è ancora molto da discutere lo facciamo con un ospite che è già stato qua su bio blu saluto riccardo magnani buongiorno e ben ritrovato ciao grazie mille allora ricordiamo riccardo magnani economista ricercatore storico è già protagonista di un video che ha fatto veramente successo su bio blu lo ricordiamo cristoforo colombo non è mai esistito si chiamava così il video di circa un anno fa oltre 300 mila visualizzazioni se non sbaglio si parlava di un tema molto appassionante che riguardava la presunta scoperta delle americhe magari oggi riaccenniamo un po perché parleremo ovviamente di questo argomento ma tutti si è occupato anche di un sacco di altre cose tra cui leonardo da vinci rinascimento soprattutto esatto sì io nasco nasco come economista come ricordato ma il mio campo di studi preeminente quello di leonardo da vinci da lì sono partito e poi ho allargato il campo ovviamente a tutto rinascimento perché leonardo fa parte del rinascimento e incidentalmente su tutto quello che è relativo al discorso delle americhe questo perché perché le prime spedizioni nei confronti delle americhe hanno condizionato tantissimo l'evoluzione storica del rinascimento l'arte rinascimentale anche se questa cosa non è raccontata e quindi per forza di cose poi mi sono trovato a intrecciare tutti questi discorsi assieme insomma ecco che il risultato è questo qua anche il libro se si ne parla leonardo vediamo se si riesce a inquadrare un po che parla appunto immagino di leonardo da vinci questo è la prima diciamo il primo tassello di un passaggio un po più complicato che parte per la revisione personaggio leonardo da vinci su base documentale quindi analizzando i documenti dell'epoca rivisitando i caratteri biografici del personaggio ma poi tutto quello che attiene alla sua vita quindi il fatto di essere venuto a milano molto prima del 1482 come raccontato dagli storici perché fortunatamente ho trovato tutta una serie di documentazioni che lo attestano e poi il ruolo che leonardo ha avuto nel rinascimento quindi il riferimento culturale primo del neoplatonismo che poi è la trama di conoscenze che ha permesso quel così florileggio di arti e tutto quello che è esposo poi nel rinascimento certo ecco partiamo appunto dal perché c'è un collegamento tra rinascimento secondo me è una recente notizia che è uscita sui giornali che sicuramente ti riguarda perché tocca comunque le tue ricerche quindi chiedo l'aiuto della regia se può far vedere appunto questa questa notizia cioè si tratta della scoperta di una menzione dell'america in un testo risalente pensate a 152 anni prima dell'impresa di cristoforo colombo presunta impresa ovviamente sulla base di quel video famoso che hai fatto e continuiamo a leggere una menzione di una terra situata al di là dell'oceano atlantico è stata individuata in un'opera inedita medievale scritta dal domenicano galvano fiamma intorno al 1340 una menzione che si è confermata potrebbe essere considerata clamorosa la scoperta è nata all'interno di un progetto dell'università statale di milano e all'interno di quest'opera ancora inedita e oggetto di studio da parte del progetto si trova riferimento a una terra di nome marcalada spero di averlo pronunciato giusto e certo da identificare con quella chiamata markland nelle saghe norrene cosa di cosa si tratta cosa ne pensi di questa scoperta allora si tratta innanzitutto di una nuova notizia nel senso che già in chiusura hai detto hai fatto riferimento alla terra markland quindi quella citata nelle saghe norrene quindi è la ripetizione di un qualcosa che già si sapeva cioè le saghe norrene già conoscevano il continente americano le saghe norrene raccontavano una conoscenza dei vichinghi da parte del con del continente nord americano e insieme a markland c'è vinland groenland quindi la groenlandia la terraverde perché naturalmente c'era un passaggio da dalle terre scandinave al nord america che era abbastanza naturale agevole quindi le saghe del attorno all'anno 1000 raccontano di eric il rosso tra l'altro sono quelle saghe legate poi alle vicende di quella serie televisiva vikings vikings tanto cara claudio per l'anno scorso quando ci siamo visti proprio si si parlava di questa cosa quindi è una notizia innanzitutto perché racconta di qualcosa già esistente secondo perché si continua a enfatizzare questa storia di cristoforo colombo che come ho detto l'altra volta e come sto scrivendo anche in in questi giorni in una nuova pubblicazione di fatto non solo non ha scoperto le americhe perché le americhe esistevano ed erano abitate quindi nessuno si può così fregiare di questo di questo titolo ma perché tutto quello che attiene al racconto di cristoforo colombo quindi il naufragio quindi il 12 ottobre lo sbarco eccetera eccetera fanno parte di tutta una serie di viaggi anteriori al 1492 legati a domenico malatesta legati a pandolfo sigismondo malatesta quindi il racconto che viene fatto e che virtualmente viene collegato a cristoforo colombo di fatto è una grossissima operazione di marketing che la chiesa ha messo in atto in quel momento perché aveva bisogno di espandersi verso occidente perché l'imperio di costantinopoli era caduto perché i turchi stavano avanzando e quindi c'era la necessità di accedere a nuovi terreni da una parte e dall'altra c'erano le enormi ricchezze che il continente americano stava annunciando di avere quindi il personaggio alla scoperta sono due azioni che sono state ascritte a questo personaggio di fantasia proprio per lamentare un titolo di primarietà c'è questa rincorsa del primato che l'uomo ha da sempre poi l'occidente in particolare probabilmente l'occidente in particolare ma pensiamo ai monoteismi pensiamo alla religione ebraica quindi la primogenitura ne stavo scrivendo proprio stamattina c'è questo senso del primato a tutti i costi sono stato il primo a però il primato soprattutto in questi termini riconduce a due elementi principali spazio tempo quindi il primato raggiungere una terra al di là del colonne d'ercole e il primato in termini temporali ma chi stabilisce la data di riferimento per il primato quindi cosa è nacronistico e cosa no certo che se io fisso una data a tavolino poi tutto quello che è il racconto storico diventa una conseguenza virtuale di questo racconto certo è sicuramente comunque rivoluzionaria questa idea che dai della storia che poi dall'inizio alla storia cosiddetta moderna da quella scoperta dell'america e oltre a questo quindi la diciamo che il progetto della scoperta dell'università di statale di milano è una conferma forse di tutto il percorso che hai iniziato anche tu in qualche modo sì è una conferma in diretta ma di cui non ce n'è bisogno cioè la conferma già è nelle saghe non rene se vogliamo ripeto mi fa specie il clamore che si è dato a questa notizia perché poi ha fatto il giro del mondo su un qualcosa che già si conosceva quindi il pensiero pensare male si fa peccato ma spesso ci sia zecco diceva quello però ci sono altri altri indizi che tu anche in un recente articolo se non sbaglio hai di cui hai parlato ampiamente chiedo appunto alla regia di darci una mano perché si parla in particolare del planisfero contenuto nella sala della creazione di palazzo besta a teglio quindi anche qua abbastanza vicino allora sì vediamo eccolo qua ecco grazie alla regia allora l'articolo è stato pubblicato da wall street journal e ho utilizzato questo planisfero e un altro che vedremo poi in seguito proprio per giustificare questa costruzione virtuale della storia o della narrazione storica c'è questo planisfero che fa parte della sala della creazione di palazzo besta che è una sorta di scrigno in cui i fiorentini avevano portato le conoscenze dell'accademia neoplatonica proprio per preservarle dall'azione di distrazione che la chiesa aveva messo in atto quindi c'è questo impianto pittorico molto molto originale anche se ripete delle iconografie già presenti ad esempio sulla porta del paradiso del ghibertino che in questi giorni viene continuamente ripetuta perché fa da contraltare alla porta che si vuole mettere esatto quindi c'è questa profondo questo profondo riferimento al mondo neoplatonico fiorentino e c'è questo planisfero che viene ritenuto anacronistico per il fatto che presenta l'antartide privo di ghiacci e non per l'adattazione che porta in calce in una scritta che recita terra australis anno 1459 se non non plena conita cioè la terra australe nell'anno 1459 come non ancora pienamente conosciuta quindi risale a 40 anni circa prima di quella data fatidica risale grosso modo a 40 anni prima o almeno la dicitura indica una datazione del genere posto che la dicitura sia coeva al momento in cui è fatto ma l'informazione più importante perché rimanda proprio all'accademia neoplatonica quindi marsiglio ficino pigora mirandola che è stata istituita proprio nel 1459 l'anacronismo non è dunque solo nella antartide priva di ghiacci ma la presenza anche di america del nord america del sud la particolarità qual è che per coprire questa lettura anche il polo museale milanese a cui rifà il rifà palazzo besta ascrive questo planisfero alla copia di un planisfero di un cartografo tedesco che è caspar foppel minore chiaramente minore in cui la dicitura sottostante diventa terra australis recente rinventa 1499 se non non plena conita quindi la terra australe recentemente scoperta che già questo sarebbe eclatante no però tutto tace nell'anno 1499 perché così si contemplano i viaggi nel frattempo compiuti da vespucci quello si è andato come non ancora pienamente conosciuta però sette anni dopo solo la presunta scoperta sarebbe stato possibile fare no anche perché l'antartide fino al 1820 non è mai stato scoperto nonostante sia presente in tutte le carte geografiche rinascimentali la giustificazione nuovamente che viene data è che era un una specie di accomodamento dai cartografi dell'epoca per bilanciare le terre emerse le terre non emerse che è una follia arrampicarsi un po sugli specchi esatto quindi per negare un'evidenza si utilizzano tutta una serie di giustificazioni documentali perché comunque è un documento una mappa senza poi tener conto delle conseguenze che questa giustificazione comporta proprio perché nessuno poi le va a vedere cioè ci accontentiamo del fatto che una data o un nome quindi vespucci in questo caso renda possibile il fatto che nel 1493 ad esempio le americhe siano rappresentate ma nessuno tiene conto del fatto che per rappresentare un continente col sestante con le stelle cioè non bastano secoli certo c'è tutto un lavoro c'è un lavoro che ma poi anche penso di esplorazione proprio del continente che in un anno non poteva essere fatto no no ma neanche in secoli perché ora che riconosci fiumi le montagne eccetera eccetera però in questo c'è una lettura importantissima che nessuno storico normalmente fa quando fa un lavoro di questo genere cioè collegare il modo in cui una notizia falsa viene diffusa e poi diventa facente parte del nostro bagaglio collettivo e condiziona fortemente i nostri comportamenti questo succede in economia questo succede in politica questo succede nella pubblicità quindi qualunque informazione venga sviluppata in virtù di quello che è successo proprio in quei periodi quando la conoscenza è stata completamente cancellata e la diffusione dell'informazione diventa strumentale per sostenere una tesi fa sì che la superficialità con cui noi ci informiamo permette ai propositori cosiddetti della fede di farci fare tutto quello che vogliamo senza citare quello che sta succedendo il riferimento è abbastanza chiaro e ovvio quindi l'importanza del mio ruolo non perché sia io dal mio ruolo in quanto studioso o ricercatore dovrebbe essere proprio questo non finalizzare e limitare lo studio e alle evidenze che poi ne emergono ma fare dei collegamenti come il caso di specie con con la quotidianità c'è stato un articolo forse te lo dicevo al telefono ricordo di marcello veneziani poco tempo fa no in cui si lamentava del ruolo dei revisori storici che devono smetterla di continuare a rompere le palle dovrebbero invece lasciare che la modernità sia propri dei suoi spazi però questo mi sembra un atteggiamento estremamente pericoloso proprio perché disconoscendo il passato non siamo poi in grado di comprendere quello che succede nell'oggi no che poi il ruolo di qualunque analista era poi la storia soprattutto ma come qualsiasi disciplina scientifica ha bisogno di dubbi di ricerca non può essere fatta di capisalli e dogmi che poi ovviamente devono essere abbiamo visto anche c'è nel corso della storia tutta una serie di episodi storici poi sono stati rivisti poi alla luce di altri avvenimenti che sono accaduti quindi guarda ne abbiamo parlato apparentemente già in quello che abbiamo detto ci sono tantissime notizie perché l'antartide era verde perché era priva di ghiacci quindi vuol dire che c'è un momento in cui l'antartide è stato possibile mapparla e vederla con le coste almeno prive dei ghiacci questo non dovrebbe sorprendere perché la ciclicità climatica è qualcosa che la scienza già riconosce e questo però ci dovrebbe far pensare due volte una prima volta nel capire che nessuno ha scoperto l'america e che quelle conoscenze geografiche retrodatano non di decenni ma di secoli e millenni la seconda informazione quello che nuovamente sta succedendo adesso cioè quella campagna verso la green economy verso tutto green in questo momento ieri greta thunberg era qua a milano bravo bravissimo e incomincia a impossessarsi anche di spazi della televisione nazionale no era con zoro piuttosto che quello che viene fatto passare come un allerta clima già ci aveva provato al gore quando era candidato per la presidenza degli stati uniti in realtà è un finto problema perché è un problema di ciclicità il problema vero è il sistema di inquinamento che questo sistema capitalistico impone però se lo racconti così spaventi perché chi ha portato avanti il sistema fino a oggi non può portare avanti quello che succederà e quindi si cerca di darsi una verginità nell'ottica della green economy per poi gestire la riconversione quindi attenzione a quello che succede beh sì un discorso molto interessante perché si ricollega all'attualità abbiamo anche un'altra mappa che sembra andare sempre nella direzione in cui tu ci stai dicendo chiedo alla regia di darci una mano un altro planisfero presente in questo caso in casa degli atellani a milano quindi proprio qua se ce lo puoi spiegare allora sì questo ancora più particolare di quello di teglio anche se viene dalla stessa matrice perché poi tutte le famiglie che erano alleate all'epoca quindi destra gli sforza i malatesta i medici ovviamente avevano accesso alle stesse conoscenze geografiche quindi la matrice di tutte questi planisferi o rappresentazioni geografiche è la stessa questo è molto particolare perché oltre a rappresentare l'antartide l'america del nord dell'america del sud e ripeto siamo nel 1450 rappresenta due terre apparentemente sommersi che potrebbero essere il continente di mu e lemuria rimane il fatto che è una straordinarietà che nuovamente evidenzia un'anomalia cioè la casa degli atellani cosiddetta è stata acquisita solo nel 92 guarda caso data che si collega alle americhe no ma in realtà era a casa landi antecedentemente landi era un condottiero che fedele a francesco sforza è ripreso all'interno di santa maria delle grazie in un dipinto abbastanza per me conosciuto ma ogni tanto lo faccio vedere dove nuovamente c'è questa madonna della misericordia cosiddetta che tiene il velo aperto ma in realtà viene soprannominata la madonna dei navigatori perché questo velo aperto rivela la forma a cuore delle prime rappresentazioni geografiche questi planisferi perché la sfera aprendosi descrive proprio questa forma cosiddetta a cuore quindi nuovamente c'è una implicito riferimento a delle conoscenze geografiche in capo landi che era il proprietario della casa che guarda caso all'interno aveva questo planisfero eccetera eccetera quindi sono notizie che innanzitutto sono tantissime quanto abbiamo parlato cinque minuti dieci minuti e superano in termini di risonanza la notizia che non è una notizia del ritrovamento del nome markland ma soprattutto ci permettono di raccontare una storia completamente diversa cioè fare luce su un'evoluzione storica e cognitiva che ci permette di comprendere come siamo arrivati alla situazione di oggi e se siamo bravi a non farci intortare come stanno provando a farci senti ma qual è l'approccio del da parte dell'accademia nel senso alla luce anche di queste mappe che obiettivamente cosa si può discutere nel senso va bene il museo può anche dire che è stata fatta nove anni dopo la scoperta dell'america però rimane sempre c'è la prova concreta che qualcuno in quel periodo conoscesse benissimo come fossero fatte le coste dell'antartide come erano fatte le coste delle dei due continenti americani ma dico non c'è nessuno tra gli storici ufficiali che tratta questo argomento che riconosce almeno un minimo di dubbio rispetto a questa vicenda allora nell'ufficialità no anche se adesso incomincia il libro che prima hai fatto vedere è stato tradotto in inglese in spagnolo o tra poco in tedesco e adesso incomincia ad essere adottato in alcune università inglesi americani quindi piano piano però nell'ufficialità ancora c'è un rimbalzare le notizie il problema è che non c'è accoglimento nemmeno una parte da parte di chi fa degli studi alternativi nel senso l'accoglimento della notizia c'è per ognuno poi si aggrappa per raccontare sì però i cinesi sono andati perché adesso c'è questa tesi no però erano andati forse i romani perché c'è quell'ananas senza capire che sono di fatto delle piccole speculazioni che non servono a niente condizionate da questo senso del primato a cui facevamo riferimento prima l'america non l'ha scoperta nessuno era abitata era lì era conosciuta era mappata ma questo continuo voler cercare il primato a tutti i costi è un vizio che poi rimane è un tarlo nella nostra mente no e fa sì che assumiamo un condizionamento nelle azioni quotidiane cioè ci deve essere sempre un primo in tutto ma non è così che funziona bisogna capire prima cosa succede e poi anche smettere di tramutare tutto quanto in in competizione perché di fatto siamo una parte di un tutto e quindi dovremmo collaborare anziché creare questo antagonismo che è il vizio della società di oggi certo senti ma prima hai parlato di tempi ciclici della storia riferimi in riferimento al clima queste mappe però ci dicono anche una possono suggerire anche un'altra cosa ovvero che comunque per mappare l'antartide per mappare il continente americano ci vuole un minimo di conoscenza quindi è possibile che anche la storia dell'evoluzione umana sia stata fatta da vari cicli di evoluzioni che poi si sono interrotti e ripresi nel corso del tempo e queste mappe possono essere la testimonianza di qualcosa che è successo in un passatore emotissimo allora ovviamente è un interrogativo che mi pongo perché comunque nel momento in cui dice ok queste sono mappe che hanno una datazione o un riferimento millenario o esprimono una conoscenza millenaria chi li ha rappresentate come ha potuto farlo però una traccia di continuità in questo momento non c'è cioè non c'è il fatto che c'erano civiltà evolutissime che poi si sono estinte perché poi ogni tanto qualcuno ci provano il grande reset ne hanno già fatti tanti piuttosto che in questo momento è un'affermazione che non possiamo fare quello che possiamo sicuramente fare è che oggettivamente qualcuno ha potuto osservarlo e trasmettere all'umanità di oggi quel tipo di conoscenze che sono conoscenze geografiche ma sono al tempo stesso conoscenze di carattere astronomico matematico biologico perché è innegabile che se è vero che l'anno platonico cioè il tempo che impiega la volta celeste a fare un giro su se stessa è di 25.920 anni come facevano i sudamericani a conoscere l'evoluzione dei pianeti non è possibile che solo sono tramandati oralmente in un lasso di tempo così ampio quindi ci sono degli interrogativi che indicano o suggeriscono delle risposte di un certo tipo però ovviamente almeno da parte mia la precauzione è quella di dire non rispondo fin tanto che non ho una risposta intelligente perché il problema poi anche questo non si tende a buttare delle risposte perché il sensazionalismo perché non è così quindi una conoscenza pregressa sicuramente c'è stata non ti so dire in questo momento se attiene a civiltà presenti se attiene a entità terze piuttosto che che ne so beh continueremo anzi continuerai questa ricerca magari si arriverà chissà quando delle nuove risposte intanto però ti stai preparando un nuovo lavoro se non sbaglio e abbiamo forse anche la copertina del tuo nuovo libro allora sì sto scrivendo questo libro perché tutto è nato come dicevo un anno fa con voi eccolo qua nessuno ha scoperto le americhe giusto esatto nessuno ha scoperto mai le americhe è un titolo provvisorio anche se è un titolo provocatorio come era quello di colombo non esiste ma che vuole così stimolare una riflessione chiaramente presenterò tutte queste evidenze delle americhe presenterò il fatto che nei dipinti nell'arte rinascimentale il tema dei viaggi nelle americhe è continuo e ricorrente pisanello botticelli piero dalla francesca tutti leonardo stesso hanno rappresentato le americhe in un periodo precedente a raccontare una conoscenza non solo teorica ma anche pratica tu considera che lorenzo il magnifico è a tutti gli effetti un indio cioè un figlio di della famiglia reale inca e questo racconta nuovamente un qualcosa estremamente disarmonico rispetto a quello che poi è successo che poi è più armonico di fatto cioè il fatto che europei e amerindi erano complici per un certo punto tanto che addirittura hanno messo un proprio esponente i sudamericani alla guida della famiglia più importante dell'Europa rinascimentale e pensa il contrasto con quello che poi è successo con l'invasione spagnola con l'azzeramento di tutte le loro conoscenze quindi che tipo di storia avremmo avuto se nuovamente non avesse prevalso la voglia non fosse prevalso la voglia dell'uomo di primeggiare oppure di saccheggiare tutto quanto sicuramente sono veramente una revisione della storia interessantissima e siamo qua ovviamente nel momento in cui uscirà questo lavoro per fare un'altra intervista perché veramente pensare a Lorenzo il magnifico in questa nuova visione è veramente interessante sì perché poi come ti dicevo la cosa importante è proprio questo cioè utilizzare la storia per comprendere quello che è successo oggi si dice che un paese senza storia non possa comprendere il proprio presente e futuro il rischio è quello che stiamo correndo oggi cioè cancellare dalle scuole lo studio della storia, dalla storia dell'arte vuol dire omettere una serie di informazioni importantissime per comprendere chi siamo e dove in teoria dovremmo andare e dove effettivamente stiamo andando però oramai sembra che alle nuove generazioni tutto questo non sia concesso perché addirittura sono due anni che gli facciamo istruzione in DAD io ho fatto una lezione tempo fa ai ragazzi all'università californiana al computer senza vedere in faccia nessuno cioè mi sembrava una follia ed è una follia perché stiamo penalizzando questi ragazzi non solo di una serie di informazioni ma di tutta una serie di tasselli evolutivi legati alla socializzazione alla conoscenza del proprio corpo stiamo facendo dei danni pazzeschi quindi l'importanza di recuperare queste materie proprio perché non sono fine a se stesso come sto dimostrando ma sono necessarie per comprendere poi i tempi che viviamo qualunque analista politico, economico, finanziario forse la finanza fa bene a tenersene a largo perché è competitiva con questa soluzione però chiunque dovrebbe studiare o conoscere il passato per comprendere poi come intervenire sul presente certo infatti l'incapacità anche di leggere gli avvenimenti attuali forse deriva proprio da questa ignoranza esatto quindi la tesi nel libro è presentando ovviamente tutte le prove perché chiaramente devo essere inattaccabile poi accompagnare il lettore a comprendere un po' tutte queste cose Va bene Riccardo io ti ringrazio perché è stata una chiacchierata interessantissima cioè diciamo ho fatto fare un viaggio indietro nel tempo nel rinascimento e appunto con un'angolazione diversa perché effettivamente queste mappe ci mettono di fronte ad una cosa oggettiva cioè il fatto che in quel periodo effettivamente è stato detto qualcosa che poi diciamo ha creato tutta una serie di ripercussioni nella storia per poi come è stata letta anche a livello occidentale ovviamente ci rivedremo qua perché sono curiosissimo della storia di Lorenzo il Magnifico e delle sue origini e niente ti ringrazio per essere stato con noi Grazie mille a te Bene siamo giunti al termine di questa puntata io vi ricordo che potete seguire tutti gli aggiornamenti di BioBlu sul canale 262 del Digitale Terrestre io vi do appuntamento alla prossima intervista Grazie mille a te